Gran successo per la giornata azzura. Manifestazione che si è svolta sul ciclodromo Alfredo Martini ad Albinatico a Ponte Bugianese. 260 atleti, una lunga giornata in ricordo di Alfredo Martini e Franco Ballerini, Giancarlo Ceruti e Enzo Cipolli, ricordando anche Luigi Perniconi e Sauro Coppini. Quattro gare, due per gli esordienti e altrettante per gli allievi. La prima gara allievi con lo splendido finale di Thomas Del Frate della team Valdinievole. La seconda, un bella Lorenzo Lavorini della Giusfredi Macolive, che si è affermato davanti al suo primo inseguitore Cincinelli. Questo con grande soddisfazione per le due società della Valdinievole. Le gare degli esordienti invece sono state vinte dall'Umbro Pietro Battistelli della Velo Racing Assisi e dall'Aretino Pietro Frasconi della Pedale Toscano. Ottimo lavoro quello svolto dall'organizzazione, dai dirigenti dell'Ocip, organizzazioni ciclistiche pistoiesi e dalle società pistoiesi, oltre che dal Comitato Provinciale di Pistoia della FederCiclismo. Sapete che spesso mi emoziono, però cerco di non farlo, anche se è molto difficile. Io sinceramente oggi devo dire una cosa, mi sono divertito, mi sono divertito molto, per la partecipazione di tutte le società, per il fatto di essere riuscito come Presidente della Comitazione Provinciale, con il supporto di queste società, a creare un modo di fare ciclismo che spero venga ripetuto in questo stupendo ciclodromo. Abbiamo vissuto quattro gare molto importanti, l'ultima oserei dire anche piuttosto entusiasmante. Devo ringraziare tutti, più che altro queste società, e devo ringraziare molto di aver accoppiato questa cosa con la mancanza di Sauro, che per me era un grandissimo amico, oltre che il mio Presidente, una gran bella giornata di sport. Spero che venga ripetuta perché questo ciclodromo se lo merita. Io penso che un polo come il ciclodromo Alfredo Martini l'abbiano in poche regioni. E io come Presidente del Comitato Provinciale farò il mio possibile, e il più big perché questo avvenga. E questo è un ciclodromo che merita la presenza, il divertimento, nella sicurezza di tutti quelli che sono presenti.